73 Lelia Spero che l'aspetto rustico ti permetta di portarlo Prepara i figli per una visita al figlio carmelitano Fra Raffaele, mio carissimo, domenica ore 19.30 Ti seguirò ora per ora, lunedì e martedì Ti raccomando la vivacità veramente straordinaria di Francesco E la mania escursionistica di Leonardo Roberto si raccomanda da sé Ti mando il temperino che potrebbe esserti utile Spero che l'aspetto rustico ti permetterà di portarlo Nel pacco troverai cacao, zucchero, caffè e tante altre cosette per il convento A parte ti mando anche le ricette dei dolci senza forno Sono le famose pizze che facevo io prima della guerra, ricordi? Uno strato di biscotti inzuppati di acqua o rum O un liquore qualsiasi, anche marsala ma zuccherata E poi la crema, fatto con uova, zucchero, farina e latte O anche senza uova, in economia Spero che la tua salute sia sempre ottima Come pure ottimissima la parte spirituale Stamattina, domenica, ho veduto padre Mario Che mi ha dato un bigliettino che unisco alla presente Non ti dico il suo rammarico per non essere passato alla provincia romana Che peccato I quattro sono usciti con papà Dopo una partita di calcio nell'ingresso Immagina la sudata Ho dovuto farli cambiare tutti Anche Teresa che con Francesco fa il diavolo a quattro Ho già preparato il pacco e la valigia per te Speriamo che non perdano niente Adesso vado a preparare la cena Perché stasera li mando a letto presto Buona compagnia e auguri Auguri Ti benedico e abbraccio con tutto il cuore Mamma Grazie a tutti